non è scoperto che c'è stile Gioce, ce l'abbai più? sono fasi stai Gioce non è scoperto che io finisco e non lo vedi mamma è gelato mamma 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 è gelato vuoi? and è chiaramente sono fra ultim Games non si li ha non c'è neSw non li ha giusto una masca una masca un'altra cosa la vostra cedera questo è un minuto? più cucchiai un minuto, no? dai, la farei questa mamma dai quel da banda saponò no perfettica, se cassa al cattè che mangiai pizzabà no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no 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 non 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 questo giallo non capisce, se cazzo lo condono mi piace fare il margello, come quello weird eh sì, adesso qui c'è un nuovo weird, ce lo doveva dare ho fatto dare ma c'è qua il pap eh? non c'è qua il pap eh? so stai a prendere, tutti i tuoi io non eserco il tema di fare stare le donne ma 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 non ma 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 E' un po' di saniore di noi che stanno già in bari sotto il cielo, io non so come fare il bambino. come la puo stare? perchè quella è tua? mi do questo effetto che hai che miglioro perchè? quella è mia di toro ma che cosa hai? allora fa il braccio di te guarda quella diciamo ma fa il braccio di toro io rompo lo simbolo lo potrei guardare e sempre lo è eh va bene No, no, no. no 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 ... 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 c'è la torta a 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